Ciao Lele, come stai? Sono tuo amico che viene da New York, Mr. Reggie Green, comic. Accetto con onore la tua sfida di flessioni. 22 faccio senza problemi con i vostri veterani che purtroppo devono pensare al suicidio invece nella vita. Ecco, vado adesso. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quundici, sedici, sette, diciotto, dicinove, venti, ventuno, ventidue. Credo che ho fatto giusto. Lele, è stato un onore, grazie per nominarmi. Adesso faccio la nominazione a uno che si chiama Pasquale Scalise. Dai Pasquale, che tocca a te adesso. grazie Lele. Stami bene, ah?